Il centro acustico italiano ti cambia la vita Nato nel 1982, il centro acustico italiano si è sempre dedicato alle persone deboli di udito. In un ambiente accogliente e dotato della più aggiornata strumentazione, i tecnici audioprotesisti seguono personalmente ogni cliente. Il centro acustico italiano è specializzato nell'applicazione di apparecchi acustici digitali OTCON, una delle maggiori aziende audioprotesiche a livello mondiale, sua partnership da molti anni. Il nostro obiettivo è aiutare le persone deboli di udito a vivere nel miglior modo possibile la vita che vogliono, con l'udito che hanno. Persone prima di tutto. È lo spirito del centro acustico italiano. Che si riflette in tutto quello che facciamo. Sono persone e non solo orecchie che usano i nostri prodotti, che li progettano, costruiscono, scelgono, adattano. La tecnologia è il veicolo del progresso. La conoscenza ne è il propulsore. La conoscenza dimora nelle persone.